carissimi ascoltatori di radio buon consiglio ben ritrovati per una nuova puntata della trasmissione mariana di maria nuncansatis che è giunta alla ventunesima puntata stiamo trattando da un certo numero di incontri il tema della diciamo complesso e articolato di maria santissima corredentrice mediatrice avvocata dell'umanità come sappiamo questi titoli non sono ancora oggetto di una vera e propria formulazione definizione dogmatica da parte della chiesa anche se come abbiamo già visto per la corredenzione di essi se ne parla ampiamente non solo tra gli scrittori ecclesiastici ma anche nei testi del magistero abbiamo stiamo chiaramente entrando in questi argomenti sempre come doveroso e come quanto mai opportuno per una radio cattolica per un sacerdote che parla facendo tutto questo ovviamente nella chiesa e con la chiesa e sotto la guida del magistero della chiesa la volta scorsa abbiamo visto il se in che senso la madonna corredentrice come interpretare correttamente la corredenzione mariana che è comunque una cosa del tutto singolare esclusiva della madonna e ricordiamo sempre dipendente dalla volontà di dio ovviamente subordinata e a quella di cristo e a differenza della prima non assolutamente necessaria se non in quanto dipendente da un decreto della divina volontà che l'ha resa tale e quindi dobbiamo ringraziare maria santissima perché ha fatto quello che dio voleva ritenendolo conveniente per cooperare con cristo all'opera della redenzione oggi dobbiamo aprire un altro capitolo che chiaramente necessita come già a suo tempo fatto per il tema della corredenzione di una illustrazione di un'introduzione perché oggi cominciamo a verificare e a parlare di maria santissima mediatrice di tutte le grazie dobbiamo certamente comprendere anzitutto il significato del termine mediatore e più in generale la figura della mediazione nella sacra scrittura in generale e nei rapporti tra dio e l'umanità e l'uomo sia come popolo sia come singolo in particolare per poi passare ovviamente da una volta compreso in generale la figura di cristo anche qui unico mediatore tra dio e l'uomo e poi in un secondo momento se e come la mediazione mariana si può concepire come se ne può parlare con preco correttamente il riferimento e indipendenza anche in questo caso dalla mediazione di cristo però con le sue caratteristiche proprie e specifiche allora noi sappiamo benissimo che dio abita dice san giovanni una luce inaccessibile d'accordo e l'uomo fino a quando sta su questo pianeta terra non può vedere dio almeno dopo la condizione di decadenza del peccato originale perché qui se vogliamo provare ad immaginarci com'era la situazione prima della colpa d'origine ecco bisogna tornare indietro sia il ciclo di catechesi che ho fatto su radio buon consiglio sulla divina volontà sia per chi è interessato seguire quello che sto facendo non su radio buon consiglio attualmente che è su adam e la vita nella divina volontà quindi come sarebbe stato non lo possiamo sapere con certezza anche se possiamo immaginarci qualcosa certamente sappiamo com'è dopo e il modo con cui dio si è rivelato progressivamente agli uomini è stato sempre un modo mediato in che senso veniva scelto qualcuno per esempio no è per esempio abramo capo stipire del popolo di israele per esempio ancora più importante la figura di mosè in relazione all'uscita dall'egitto proprio alla prima grande forma di di manifestazione di teofania nel popolo dell'antica alleanza e poi però dopo l'ingresso nella della promessa giosuè e i giudici e poi il ciclo dei re e dei profeti insomma che a titolo differente soprattutto i profeti erano sempre delle figure di mediazione quindi c'era dio che si manifestava attraverso ordinariamente una figura di mediazione al suo popolo quindi il motivo è molto molto semplice non c'è un accesso ordinariamente immediato a dio per sua volontà e anche per una condizione diciamo così con naturale alla nostra attuale situazione umana non saremmo capaci adesso come adesso e di poter stare frontalmente a contatto con dio non è solo questo ma una delle modalità per cui c'è stata l'incarnazione del verbo è anche che dio ci ha parlato con voce umana si è manifestato in sembianze umane come dire velando la sua gloria dietro la santissima umanità di cristo quindi cioè dio ha dovuto comunque trovare un modo quindi un modo mediato anche in questo caso per entrare in contatto con noi vedremo che gesù è il mediatore per antonomasia tra dio e l'uomo quindi questo è una delle delle motivazioni c'è anche e un'altra fondamentale motivazione che è per esempio non è stata fatta è stato diciamo oggetto a suo tempo è doveroso riportarlo trattando di questo argomento pur senza voler fare inutili polemiche però dobbiamo comprendere bene alcune cose no il rapporto con dio nostro è anche personale però quando noi parliamo di rapporto con dio dobbiamo sempre tenere presente una triplice configurazione strutturale dobbiamo diciamo così 1 la dimensione comunitaria dio salva e si interfaccia con gli uomini non semplicemente come individui e come sfere isolate ma come popolo 2 il rapporto diciamo così istituzionale che dio ha con il suo popolo è un rapporto mediato mediato da cosa mediato sia da un punto di vista umano da coloro che hanno il compito di guidare il popolo di decodificare la volontà di dio al popolo guardate questo c'è tuttora nella chiesa poi lo vedremo e sia anche attraverso per esempio gli strumenti di santificazione cioè la santificazione che noi riceviamo attraverso i sacramenti è una mediazione certamente no cioè tu quando ti fai a fare la comunione mica vedi gesù che ti entra dentro tu vedi l'ostia consacrata quindi attraverso questo tramite sensibile così vale per tutti i sacramenti pensiamo alla confessione ne parleremo durante queste cose forse già in questa poi in questa stessa puntata ci sono sempre dei medium diciamo adesso medium è un termine brutto insomma che utilizzato in in ben altri contesti ma delle figure di mediazione o degli strumenti di mediazione certo insieme a questi voi attenzione però insieme a questi e dipendentemente da questi attenzione è necessario intessere intrecciare istituire un rapporto personale intimo dialogico relazionale con dio non è che non c'è c'è e come guai se non c'è ora sapete che la polemica ormai datata però da dover citare luterana e tendeva a eliminare questo è stato uno dei punti veramente cardini dell'errore grave insomma della riforma protestante tutte le figure di mediazione se vuoi ci pensare il mio rapporto è a tu per tu con gesù e va senza nessuna figura di mediazione non riconosco la chiesa non riconosco i sacramenti non riconosco il magistero la bibbia viene interpretata solo d'accordo la sola la sua scrittura libero esame personale e i peccati mi riassolvo facendo un atto di fede mi metto davanti a gesù dico signore mio sono un grande peccatore ma so che tu mi ami così come sei la tua misericordia mi copra e se io credo profondamente a questi miei peccati sono rimessi questo sto semplificando proprio alla grande e quindi allora come tutte quanti dobbiamo sempre pensare quando sorge un un movimento ereticale questo dobbiamo anche avere questa sapienza no e il problema c'è quindi c'era sempre un problema storico reale a cui purtroppo sciaguratamente disgraziatamente purtroppo appunto il movimento ereticale ha dato una risposta sbagliata ma il problema c'è capite perché questi tre ambiti quindi l'ambito comunitario l'ambito della mediazione l'ambito personale devono essere equilibrati e compresenti per una vita di fede autentica dovunque tu sbilanci lago vai fuori bordo anche se tu per esempio facessi delle figure di mediazione come era successo ai tempi del 1500 delle realtà ipertrofiche che praticamente annullano quasi il tuo rapporto personale con gesù cioè diventa tutto quanto esterno diventa tutto quanto indotto diventa tutto quanto erente esteriore di facciata no non c'è un coinvolgimento personale allora come sempre accade questo accade pure oggi è che le cose sono sempre le stesse c'è un problema anziché cercare una soluzione adeguata boom ci si butta tutti quanti dall'altra parte e io scherzando in più di qualche volta ho detto che dio non è né di destra né di sinistra perché dio è di centro ma non perché gli piace la vecchia democrazia cristiana ma perché l'equilibrio richiede sempre la congiunta ponderazione delle opposte esigenze cioè il problema del rapporto con dio non si risolve tutta mediazione tutta gerarchia tutto magistero tutta obbedienza alla chiesa per per dire no che che è comunque una cosa prioritaria il resto la devozione personale non ce ne porta a niente non è che non ce ne porta a niente è una cosa importante però deve essere vissuta all'interno di questo ordine di questo equilibrio dobbiamo dobbiamo averle guardate che quanto mai importante oggi comprendere bene queste realtà comprendere bene queste cose ecco cioè io ho dovuto mi trovo più di qualche volta a citare specialmente in questi tempi forse ho fatto anche questa sede un filosofo che è un filosofo certamente non credente insomma hegel e che tra l'altro col suo sistema combinato insomma non pochi guai da un punto di vista culturale perché hegel sappiamo chi ha studiato lo sa contiene in sé i prodromi degli opposti totalitarismi no sia del dei nazionalsocialismi e fascismi che dei comunismi allo stato puro insomma come si sono poi manifestati purtroppo nel ventesimo secolo ma le radici teoretiche stanno nel sistema di hegel stanno no ecco però ovviamente era un genio anche se l'intelligenza come dire diretta in un certo modo ha detto una cosa che dobbiamo ricordarlo noi che il vero sta nell'intero cioè avere sempre una capacità di ponderazione di dilatazione delle cose a 360 gradi d'accordo così come per esempio mettiamo subito le mani avanti no il problema della mediazione di maria no chi si strappa i capelli non la mediazione di maria gesù cristo è l'unico mediatore lo dice san paolo c'è un solo dio è un solo mediatore tra dio e l'uomo l'uomo cristo gesù quindi non cominciamo queste storie perché c'è il primato di cristo tu cominci a parlare della madonna e togli il primato a cristo cioè così no dico dico ma aspetta aspetta chi l'ha detto che come dire prevedere dei gradi differenti di mediazione significa togliere il primato a cristo chi l'ha detto dove sta scritto questo qui dove sta scritto sarebbe come dire va bene siccome i vescovi fanno i vescovi nella propria diocesi allora il papa non è papa perché non è veramente il capo di tutta la chiesa perché tanto ne veste stanno i vescovi no la lottina cattolica dice che il papa se vuole può andare in una diocesi e rovesciare completamente quello che ha fatto il vescovo d'accordo perché lui c'è un primato di giurisdizione reale su tutta la Chiesa, tuttavia non è scalzato questo suo primato dal fatto che ordinariamente agisce con i vescovi, Gesù Cristo opera sulla funzione di guerra attraverso i vescovi che sono sottomessi e dipendenti dal Papa in un certo senso perché sono una reale subordinazione gerarchica, ma non è che questo mina il primato del sommo pontefice, dove sta scritto, il sommo pontefice può esercitare il suo primato in qualunque momento, dovunque vuole, quindi capite, sarebbe come io faccio il parroco, il parroco nella parrocchia rappresenta il vescovo, allora il vescovo non è il vescovo perché l'altro il vescovo che sta a fare, sta a salutare la scrivania, nelle parrocchie ci stanno i parroci quindi lui non lo fa al pastore, ma chi l'ha detto questa cosa qua, dove sta scritto, nel nostro procedere, nel nostro pensare, nel nostro ragionare, adesso non vorrei, questi giorni ne sto scendo fuori, tutti sappiamo insomma, la CEI si è radunata, adesso c'è chi si sta disperando, c'è chi si strappa la vestita, io mi sarò, come dire, rimbambito, io insomma, vedo, ascolto, pondero, insomma, cioè a mio avviso il problema grosso oggi e guardate che io, perdonatemi se faccio questo inciso, però stiamo in una radio, stiamo in una trasmissione catechetica e io penso che queste siano cose importanti, cioè il problema di oggi, amici miei, è che noi stiamo in un mondo che è sintonizzato sulle reazioni immediate ed emotive, perché ti arriva la notizia in tempo quasi reale e boom, se tu la scrivi su un social, nel social, a meno che non sia la mia pagina facebook, che è un'eccezione, tu scrivi il post, ci deve essere subito una reazione, e cominciano, non fai neanche in tempo di aver letto la notizia che c'è già 40 commenti e devi mettere il 41esimo, capito, perché devi per forza di la tua, capite, questo modo di vivere, cioè, io capite, cioè, bisogna a mio avviso stare un attimo attenti, cioè, noi viviamo in questo mondo, io sono il primo a esserci immerso, insomma, in questo mondo e devo ringraziare anche il mio lavoro con il mondo dei Francescani dell'Immacolata, che c'è anche solo del Buon Consiglio, che a suo tempo mi piace comprendere, anche le suore gestiscono una radio, l'importanza dei mezzi di comunicazione sociale come strumento di evangelizzazione, quindi, per carità, non sono negativi in sé, è certo che bisogna vedere l'uso che uno ne fa, no? Anche un social network può essere uno strumento di evangelizzazione, certamente, lo puoi vedere come cerco di farlo io, cioè come una modalità facilmente accessibile, con cui la gente che gli va e si legge un articolo di sentire un'umeria, dice, guarda che ieri ho fatto un'umeria su questo tema, se ti piace ci clicchi, se non ti piace giri pagina, cioè, semplicemente un modo per comunicare, sto credo che vada bene, però, per esempio, la discussione, a mio modestissimo avviso, qui, insomma, parlo anche con persone che sono credenti, chi ascolta queste cose qui, no? A mio avviso non è che è una cosa fatta tanto bene, cioè, già la discussione di per sé, se uno legge il Nuovo Testamento, non fate contese, non fate discussioni, non c'è, noi cristiani non agiamo in questo modo, cioè, il modo con cui diciamo anche la nostra, non è mai quello della polemica, della contesa, dell'alterco, ben meno che mai dell'insulto, come sempre a casa, cioè, capite? E tu stai, cioè, vedi certe dirette Facebook, brum, mentre quello sta parlando diretta c'è gente che manco sente quello che dice, sta lì, arrivano 40-50 mila commenti in tempo reale, chi insulta, chi cosa, cioè, questo stile, questo modo, io personalmente da sacerdote mi interrogo, io ho delle forti riserve che sia una cosa fatta bene, cioè, secondo me qualche prete deve andare un po' a fare pure qualche schema per l'esame di coscienza, che comunque ci stanno i peccati che si commettono su internet, cioè, io devo rifare le catechesi sui dieci comandamenti, sono datate, sono obsolete, perché non ne ho tanto parlato di queste cose, perché, ora le catechesi sui dieci comandamenti hanno 3-4 anni, si ricorderanno le sue ore, ma, cioè, adesso sta diventando una cosa pazzesca, insomma, capite, pazzesca, cioè, queste, capite, calma, 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 cioè, voi capite, come può una persona imparare, per esempio, a pregare, a entrare in rapporto con Dio, che Dio le cose te le dice, ma te le dice nel silenzio, te le dice nella preghiera fatta con calma, non c'è, Dio non è un jukebox, capite, tu gli dici, gli chiedi questa cosa e ti dà la risposta alla pappa pronta, non è questo, ma pensate anche alla vita nelle nostre comunità parrucchiali, no, il Papa, la Chiesa dice sempre l'ascolto, il dialogo, il discernimento, no, come caspita fai tu a metterti in ascolto, se si cominciano a strillare a chi dice la sua, a chi dice questo, cioè, non è possibile, capite, cioè, lo stile, no, invito chi di voi, non lo so, fa parte dei consigli pastorali, i parroci che c'erano, cioè, lì c'è un modus, cioè, un consiglio pastorale non è mica un'assemblea di condominio, cioè, capite, cioè, per carità, il consiglio pastorale non è il luogo dove stanno i sudditi del parroco, i sudditi, come dire, che non c'è, se c'è una cosa che tu devi dire, la dici, se c'è un consiglio che devi dare, lo dai, se c'è una cosa a cui non sei d'accordo, ti esprimi, a questo servono i luoghi per il dialogo, ma certo che lo fai in un certo modo, no, cioè, c'è uno stile, c'è una modalità cristiana, d'accordo, quindi, io penso che bisogna, capite, fare attenzione, perché, cioè, guardate che il motivo per cui, per esempio, temi come la corretenzione, la mediazione, fanno fatica anche un pochettino a, come dire, ad essere serenamente discussi, è lo stesso, è lo stesso di quello che anima i social network, è lo stesso di quello che la CEI propone, e pare che rende operativo, una differente traduzione di un rigo del Padre Nostro e succede il Finimondo, cioè, io allora, in coscienza dico, ma me sarò rimbambito, d'accordo, perché dico, il Finimondo per un rigo del Padre Nostro, dico, cioè, fosse pure che c'è, capite, quando lo sappiamo, cioè, chi ha studiato le lingue classiche, cioè, adesso non voglio fare, cioè, sapete che tradurre ogni traduzione, diceva buonanima di mia mamma, che era professoressa delle radine greche, è sempre un'interpretazione, ecco, sempre, e tradurre è sempre un pochino tradire, perché tu non potrai mai rendere perfettamente, se non attraverso delle perifrasi, la sfumatura e il significato di una certa lingua, questo vale per il greco, questo vale ancora di più per l'ebraico, per chi l'ha studiato, capite? Però, insomma, uno si dice, ma che sarà? Qualcuno mi faccia una mail, per andare a capire, dico, ma che è? Cioè, mi sembra, capite, sono reazioni spropositate, capite? È come se te punge una zanzara e pensi che t'hanno sparato con il bazooka, cioè, mi sembrano eccessive, va bene, adesso rientriamo un attimo nel tema, parliamo un attimo, scusate questa piccola cosa, però, su questi temi, capite? Bisogna stare tranquilli, perché, vi ripeto, questa cosa è uscito fuori, perché la mediazione della Madonna, ah, eresia! Qui lo leggeremo nella Lumen Gentium, cioè, San Paolo l'ha scritto nella prima lettera a Timoteo, esiste un solo mediatore tra Dio, uno solo, dice, non un mediatore. Allora, interpretazione, cosa vuol dire questo uno solo? Cioè, che è proprio uno e guaghi sazzar da avvicinarsi, oppure è il mediatore per antonomasia, è il primo mediatore, quello da cui dipendono certamente tutte le mediazioni, ma non soltanto non esclude, ma postula delle mediazioni dipendenti e subordinate dalla sua? Questo è un problema di interpretazione, questo qui, capite? Perché se uno prende questa cosa alla lettera e in maniera esclusiva, così lo fece Martin Lutero, capite? Perché non è che Martin Lutero, cioè, che era, che era, come posso dire, il più follo, il più matto di tutti, cioè, noi dobbiamo sempre concedere, concediamolo, no? Si tramanda, insomma, che il secondo Lutero abbia poi un po' svalvolato anche da un punto di vista di rettitudine di vita, no? Ma magari una persona che poi incede in tanti errori, magari stava in buona fede, quindi dice, ma che c'è scritto qua? Certo, c'era certamente un pochino di superbia, insomma, perché dice, sai, io sto nel 1500, la Chiesa ha 1500 anni di vita, com'è che prima di me ci ha pensato nessuno, cioè, mi ritengo veramente così intelligente, quindi questo certamente c'è, no? Però bisogna fare attenzione, bisogna fare, questo vale per tutte le cose, capite? Come quando uno legge il Vangelo, ah, tua madre e i tuoi fratelli, l'abbiamo visto, no? Sono fuori e ti cercano, ah, Gesù ha quattro fratelli, ah, allora la Madonna non è vergine, ah, allora la Chiesa Cattolica prende in giro la gente, come dicono i testimoni di Geova, e ti prendono lo sproveduto che gli vanno a bussare le porte, te vedono sto cosa qui, quello dice, accipicchia, c'è scritto proprio così, te lo vanno a prendere in greco, ve l'ho fatto vedere a suo tempo, ma in greco c'è scritto Adelfos, Adelfos, in greco esiste il termine per dire cugino, vi ricordate quando ho dato la spiegazione? Quindi, ragazzi, bisogna stare tranquilli, bisogna essere cauti, calmi, calma, cautela, pazienza, soprattutto evitare sempre i climi brutti, i climi di contesa, i climi di alterco, i climi della polemica, non si campa più in questo modo qui, cioè, capiti, i mezzi di comunicazione sono di per sé una cosa, io continuo ad essere contento di vivere in questo tempo dove ci sono queste meravigliose risorse, ma certo che è un uso distorto, ma anche le notizie, i telegiornali, un poveraccio che sta, di qualunque colore abbia, chiunque sia, che oggi sta su al governo e non fa in tempo di fare una cosa che taglia una montagna di critiche, di cose, di rimbazzi, di tormenti tra le tv, tra le social network, cioè, voi pensate, il Papa, in un contesto di questo genere, io non vorrei essere manco camicia, capite? Ma manco camicia, perché a queste cose noi dobbiamo pensarci, dobbiamo pensare, noi adesso ci agitiamo, ci preoccupiamo, ma siamo uno che è vissuto nel XVII secolo, nel 1600, il Papa stava a Roma, ma se tu già stavi a Milano, già era troppo se sapevi come si chiamava il Papa, perché tra l'altro nella messa antica, chi la celebra lo sa, la preghiera cristica viene detta sottovoce, quindi non lo sentivi manco, tu ha manca ammesso il nome del Papa, quindi già che tu sapevi come si chiama il Papa, già era qualcosa, ma di quello che faceva il Papa, di quello che diceva il Papa, tu non sapevi niente, capite? Non sapevi proprio, capite? Non è successo niente, la Chiesa è andata avanti, capite? Chi stava in Germania, in Svezia, nel VII secolo dopo Cristo, ma che caspita ne sapevi quello che stava a fare il Papa a Roma? Oggi non è più così, capite? Allora, questa cosa, se è una grandissima risorsa, è però anche un micidiale boomerang che ci torna indietro, ti distrugge la vita, fa veneno i rapporti, ti complica la vita in una maniera stratosferica, uno che sta al governo, io sono parroco di una parrocchietta dai mille abitanti, però poi vi immaginate che significa una persona che ci abbia sulle spalle la responsabilità di governare una nazione, di governare una diocese, di governare una Chiesa, tu devi stare con la camicia gelata che per mezza cosa storta che ti esce, cinque minuti dopo sta già su tutti i social network e ti stanno già montando addosso a una montagna di fango, di critiche, ma come si fa a campare così? Non si può a campare così? Allora io mi permetto, se posso, cioè di invitare almeno insomma buoni cattolici, buoni credenti, quelli che stanno ascoltando, non dico di non farlo perché poi ognuno c'è la sua coscienza e deve pensarci in queste cose, però pregaci un po' sopra, pregaci un attimo un po' sopra, perché noi non possiamo fermare questi processi, però possiamo chiamarci fuori, io per esempio ho fatto una scelta, piaccio o non piaccia, io i social network li uso in questo modo, gli amministratori dei miei social sanno che quando uno mi chiederà sono tutti benvenuti, tutti quanti, io non do l'amicizia tutti, però tu devi sapere che questa è una bacheca di un prete, che serve semplicemente a fornirti la possibilità di venire a conoscenza se ti interessa delle cose che faccio in quanto prete, d'accordo? Cioè delle cose che scrivo, delle cose che dico, degli interventi che faccio, delle carte, ti interessano? Benissimo. Le vuoi diffondere? Benissimo. Se vuoi utilizzarle per cominciare a fare macello, marasma, discussioni, insulti, parolaccio, cose di questo generale, mi dispiace, ma non può essere, non può essere, non mi sembra una cosa fatta bene, quindi liberissimo di dissentire per carità, però siccome questa è la bacheca mia, cioè il garateo di comportamento, ti prego gentilmente se vuoi abitarci di accettarlo. Altri fanno diversamente, io non giudico, non critico nessuno, a me in coscienza sembra opportuno agire in questo modo. Allora, vi invito, ecco, perché anche per raccapezzarci sui discorsi che stiamo facendo, c'è ora sempre una grandissima canta. Parliamo adesso un attimo di questa mediazione che mi sto, ecco, però non credo di aver perso tempo, insomma, perché penso che queste considerazioni siano utili da un punto di vista catechietico. Allora, abbiamo visto che Dio si manifesta attraverso il mediatore. Qual è il compito del mediatore? Il compito del mediatore è duplice. Il mediatore si trova tra Dio e il suo popolo. Media sta in mezzo, sta in mezzo. Noi sappiamo che la figura della mediazione è conosciuta anche dalla legge civile. Esiste il contratto di mediazione, esistono i mediatori. Oggi poi gli intermediatori finanziari sono i più grandi. Chi sono? Sono persone che mettono in contatto due soggetti per qualche cosa di utile, per qualche cosa che li riguarda, di qualunque tipo, di qualunque titolo. Può essere appunto un investimento, come un intermediatore finanziario, può essere la conclusione di un affare, come il mediatore che fa concludere un affare, insomma, procaccia una vendita, qualunque cosa. Quindi queste figure hanno questo compito. Qual è l'interesse, diciamo così, di Dio nei confronti dell'umanità? Farsi conoscere, far conoscere il suo amore e come sappiamo realizzare l'opera della salvezza, quella che si chiama con termine tecnico l'economia salvifica. Qual è l'interesse del destinatario di questo provvedimento, diciamo così, di questa decisione? Il destinatario ha l'interesse di conoscere correttamente Dio, di conoscere correttamente la sua opera e di imparare dal mediatore come interfacciarsi, relazionarsi con lui, sia attraverso le forme di mediazione, sia attraverso il contatto personale che in un secondo momento il membro del popolo è chiamato a instaurare con Dio stesso. D'accordo? Questo c'è sempre stato, abbiamo fatto prima una carrellata rapidissima, capite? Lo troviamo scritto nei documenti della Chiesa. Dio poteva salvare singoli? No, ha scelto un popolo. Dopo la parentesi dei primi capitoli della Genesi, Adamo, peccato originale, decadenza dell'umanità, Noè, diluvio universale e torre di Babele, chiama Abramo, Abramo era una persona abitante in estremo oriente, tutti quanti conosciamo la storia, da Abramo, dai suoi discendenti nasce quello che sarebbe stato il popolo dell'antica alleanza, il popolo di Dio. attraverso tutta la serie di peripezie narrate nell'ultimo capitolo del libro della Genesi, questo popolo si trova a essere in massa a un certo punto in Egitto, in Egitto poi, morto Giuseppe, le cose vanno a finire un pochino peggio, si ritrovano in terra straniera, vengono soggiocati come schiavi e rimangono per 500 anni, fino a quando non sorge il grande condottiero Mosè. Da quel momento in poi la storia ebraica è un continuo succedersi. Mosè, Giosuè, i giudici e poi comincia il ciclo profetico, Samuele, Elia, i grandi profeti maggiori, poi Israele vuole farsi un re, il re per certi aspetti media, alcune cose da parte dell'Altissimo, anche se l'Altissimo non voleva che il suo popolo prendesse una configurazione politica come gli altri popoli, ma questo vogliono, qui bisogna andare a leggere le preghiere ai tempi di Samuele che portarono all'elezione del primo re di Israele, che fu Re Saul, a un certo punto dice, lascia perde, vogliono il re? Dagli il re! Facendo questo hanno ripudiato me, non te, accontenta, che da quel momento comincia il ciclo del regno di Israele e la lunga storia del regno, Davide e Salomone hanno un'apice, però Salomone va a finire purtroppo malamente, finito Salomone il regno di Israele si spacca in due, il regno del nord e il regno del sud, gli assiri nel 721 fanno secco il regno di Israele, il regno del nord e distruggono tutto, rimane il regno del sud fino ai tempi degli ellenisti, perché dopo con l'avvento dell'impero romano i re, come sappiamo, diventano dei fantocci come era Erode, cioè delle figure che te le lasciano tanto per datti il contentino, ma completamente esautorate di quasi tutto il loro potere. Però parallelamente all'attività teoria continua l'attività profetica, c'è sempre questo ministero di mediazione, il profeta che parla a nome di Dio e dice guarda che ragazzi le cose stanno andando male, bisogna rimettersi in carreggiata, oppure le promesse, verrà il Messia, verrà il Redentore, verrà il Salvatore, tutto quello che attraverso i quattro profeti maggiori e i dodici profeti minori, Dio va realizzando con il suo popolo. Arriviamo al nostro Signore Gesù Cristo. Il nostro Signore Gesù Cristo è il Mediatore per Antomasia, perché il Mediatore è colui che ha il compito di farci conoscere chi è Dio, di farci conoscere cosa pensa Dio, di farci conoscere cosa vuole Dio e di metterci in contatto con la salvezza che vuole operare. Nella persona di nostro Signore Gesù Cristo è inutile dire che tutte queste funzioni vengono svolte in maniera assolutamente perfetta, perché è Dio stesso che attraverso la sua umanità, che è lo strumento di mediazione per Antomasia, opera tutto questo. Ma al tempo stesso, capite, Gesù svolge anche la funzione non soltanto discendente della mediazione, ma anche ascendente, perché Lui come uomo, come nostro fratello, perché lo è, per ora davanti al Padre e quindi intercede a nostro favore la nostra causa. Questo aprirà poi il tema, che è quello ulteriore, e che si fonda appunto su questo principio dell'intercessione di Gesù presso Dio, che è l'ultima parte delle nostre conversazioni che faremo su questo argomento, del fatto che la Madonna è l'avvocata dell'umanità, oltre che la Mediatrice. Il compito del Mediatore è comunque fondamentalmente un compito discendente, e anche il compito di raccogliere, ripeto, cioè il sacerdote specialmente, cosa fa? Prende le cose che i fedeli gli portano da sacrificare al Signore, le richieste di preghiere, le prende e le porta a Dio. La funzione sacerdotale era tipica già nell'Antico Testamento, la lettera agli ebrei spiega come Gesù abbia assolto a tutto quello che veniva fatto nell'Antico Testamento come ombra e immagine delle realtà future in maniera perfettissima, con tutta la teologia dei riti, del Tempio, del giorno dell'espiazione, del Santa Sanctorum, insomma, che è su tesare letterali ebrei, voi capite che approfondire adeguatamente questi argomenti richiederebbe centomila puntate, insomma, no? Quindi li sto semplicemente accennando. Ecco, detto questo, la mediazione di Cristo, attenzione, non è finita con lui, ma la mediazione di Cristo è passata, para para, nella Chiesa. Cristo ha un vicario in terra, che è il Papa, Cristo ha, tra virgolette, dei vicari, cioè che ne rappresentano sacramentalmente realmente è le funzioni di capo e pastori nei vescovi, ha i suoi rappresentanti, collaboratori dei vescovi, nei sacerdoti. Cristo continua a parlare attraverso la voce della Chiesa e del suo Magistero. Cristo continua a salvare, anzi mette a disposizione l'opera della salvezza da lui compiuta principalmente attraverso i sacramenti che la Chiesa amministra e che sono i canali attraverso cui la grazia che lui ci ha conquistato arriva a noi. Quindi la mediazione è assolutamente imprescindibile, capite? Assolutamente, è proprio strutturale nel rapporto tra Dio e l'uomo. Ora, ci introduciamo al nostro tema, leggendo come sempre il testo della Lumen Gentium fondante, cioè il numero 60, dove parla di Cristo unico mediatore e di Maria. leggo le sue testuali parole. Uno solo è il nostro mediatore, secondo le parole dell'Apostolo. Non vi è che un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questo l'abbiamo già avuto modo di citare. Ora, la funzione materna di Maria verso gli uomini non oscura né in alcun modo sminuisce l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra piuttosto l'efficacia. Infatti, attenzione, ogni influsso salvifico della Beata Vergine sugli uomini non deriva da ragioni di necessità, ma dal beneplacito di Dio. Sgorga dai meriti sovrabbondanti di Cristo, si fonda sulla sua mediazione e da essa totalmente dipende attingendone l'intera sua efficacia e nemmeno impedisce il contatto immediato dei credenti con Cristo, ma anzi lo favorisce. Oggi volevo soltanto leggere, capite subito, se uno punta bene le orecchie capisce la portata pesantissima di questo numero e come vada ben sviscerato. Lo faremo nella prossima puntata. Volevo assolutamente introdurlo. Quindi, c'è una funzione fondante, fondamentale, costitutiva di Cristo, da cui ogni altra mediazione attuale dipende. La Chiesa non esisterebbe se non ci fosse stata la mediazione primordiale di Cristo. Non esisterebbe proprio, perché i ministri di Cristo, i vicari di Cristo, esistono quanto vicari di Cristo. Perché esiste Cristo. I sacramenti esistono perché Gesù Cristo ha sofferto ed è morto in croce. Perché se non c'era il Venerdì Santo, i sacramenti non esistevano, i sacramenti della Nuova Alleanza. Questi non sono riti come erano quelli dell'Antica Alleanza. Queste sono trasmissioni efficaci della grazia che Gesù Cristo ci ha conquistato per noi con dei singoli effetti specifici per sei sacramenti su sette e per uno super, che è l'Eucaristia, che non contiene soltanto alcune grazie, ma contiene l'autore della grazia. Ed ha una multiforme modalità di attuazione, perché sapete che l'Eucaristia è il santo sacrificio della Messa, è santa comunione sacramentale ed è presenza reale e perpetua di Gesù in mezzo a noi. Quindi, quello che appuriamo è che, diciamo così, la forma mediazionale, non so come dirlo, la forma mediata che Dio ha voluto avere per manifestarsi, rivelarsi e salvare agli uomini, già ampiamente attuata nell'Antico Testamento, trova in Cristo la sua perfetta attuazione, il culmine, l'apice. Da Lui, sia quelle che sono venute prima, sia quelle che verranno dopo e che da Lui dipendono, traggono origine sorgente ed efficace. Sono tutte da riferire a Lui, sono tutte a Lui subordinate e tra queste ce n'è una del tutto particolare che è quella della Madonna, come vedremo. Attenzione a notare subito una cosa, non si tratta di necessità, ma si tratta di beneplacito divino, quindi una chiave di lettura fondamentale che vedremo anche nel fatto che la Madonna è una mediatici di tutte le grazie. Cominciamo subito a mettere in testa una cosa, questa cosa è così perché Dio ha voluto che lo fosse, poi dovremo volgere bene lo sguardo a Maria per cercare di, se ci riusciamo, di dare fuori qualche buon motivo per cui Dio ha voluto che così fosse, perché Dio ha sempre dei buoni motivi nel suo operare, siamo noi che non li conosciamo e non li comprendiamo. D'accordo? Di tutto questo cominciamo a parlare dalla prossima volta, però l'importante è che ci basti di aver capito e ricordiamo anche questa cosa fondamentale, che il rapporto con Dio viaggia su queste tre lunghezze d'onde. come popolo con l'ausilio necessario e imprescindibile di alcune forme di mediazione e nell'apertura ad instaurare dentro un popolo e attraverso e senza mai escludere le forme di mediazione un rapporto intimo, proprio e personale con Dio. ecco, il resto lo comincieremo a approfondire se Dio vuole dalla prossima volta. Una santa settimana a tutti con la mia benedizione Ave Maria. Ave Maria. Grazie a tutti.